Parliamo del caldo africano in arrivo anche sul nostro territorio nel weekend, lo facciamo con l'esperto meteo di Trebi Meteo, noto volto televisivo Paolo Corazzono, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, effettivamente è così, arriva un'alta pressione di origine nordafricana, alta pressione che si piazza sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia e resisterà non solo nel fine settimana ma con ogni probabilità anche tutta la prossima settimana. Alta pressione che però è vero garantisce condizioni meteo estive ma ci porta anche aria bollente sul nostro paese. Con ogni probabilità non toccheremo proprio valori record ma il caldo si farà sentire e come perché ad esempio nella città di Piacenza sono previste massime durante il weekend fino a 33-34 gradi all'ombra. Quindi poi mettiti al sole, alla faccia e poi abbiamo anche parecchie umidità in giro con i temporali che sta facendo negli ultimi giorni. Alla fine anche l'umidità rimarrà abbastanza alta quindi il caldo sarà davvero piuttosto pesante e lo sentiremo anche nelle ore serali e notturne sopravviste in aumento anche delle temperature minime. Quindi ti ripeto non saranno valori record ma sarà comunque bella tosta la situazione sicuramente. Bella tosta da questo weekend anche nel Piacentino, questi temporali imprevvisi continueranno come questa settimana o ci sarà un po' di stabilità in questo senso? Allora in realtà appunto questi temporali lasciano spazio ormai al sole in maniera decisa quindi non ci attendiamo strane sorprese, abbiamo avuto fenomeni anche intensi nei giorni scorsi. L'Appennino risulta sempre comunque la zona un pochino più variabile ma con ogni probabilità anche le zone Appennini che non solo nel weekend ma pure settimana prossima vedranno ben pochi temporali. E' più spostandosi più a nord verso le Alpi, lì saranno più frequenti ma la zona tra il Piacentino, insomma tra le miglia e la bassa Lombardia a mio parere non avremo grandi scherzi. Da dove arriva questa massa d'aria calda? E' proprio dal Nord Africa guarda, quindi si allunga prima verso il Mediterraneo ma poi piano piano raggiunge tutte le nostre regioni quindi l'origine africana come ormai è un po' un classico negli ultimi anni, gli ultimi stati sono spesso caratterizzati a questo allungo dell'alta pressione nord africana verso di noi. La domanda classica è quanto durerà? Allora temo che per una decina di giorni bene o male non ce lo toglieremo questo caldo, quindi credibilmente dovremo arrivare davvero intorno al 20 di luglio per avere un'attenuazione decisa. Poi ti ripeto, piano piano ci abitueremo anche perché appunto non saranno valori record, però per dieci giorni credo proprio che suderemo parecchio. Non sarà come l'anno scorso comunque. Grazie a Paolo Corazzoni, Trebi Meteo per essere stato con noi, buon proseguimento. Grazie, ciao e buon weekend.